Sembrava che Elisabetta fosse immortale e che Carlo non sarebbe mai arrivato sul trono. Il primo genito della monarca e del principe Filippo diventa re a 74 anni con il nome di Carlo III. Nato nel 1948, crebbe assieme alla sorella Anna e poi ai fratelli Andrew e Edward, prima di essere mandato in Scozia a studiare in un rigido istituto che aveva frequentato anche il padre. Laureato a Cambridge in archeologia e antropologia, ricevette come la tradizione un addestramento militare come pilota e poi nella Marina Reale. Persona schiva e sensibile, forse troppo per la famiglia monarchica, ha fondato molteplici associazioni di beneficenza e ne sponsorizza oltre 400. Per il grande pubblico è diventato famoso nel 1981, quando sposò Lady Diana Spencer, che aveva solo 20 anni. Matrimonio infelice nonostante i due figli amatissimi, segnato da scandali e tradimenti e soprattutto dalla relazione di Carlo con Camilla Parker Bowles, sua fidanzata negli anni 70, infine concluso con un inedito divorzio nel 1996. L'anno dopo Diana morì tragicamente e Carlo dovette fare i conti con una crescente impopolarità. Anni in cui si è bociferato insistentemente di una sua abdicazione nel momento in cui sarebbe diventato re a favore del figlio William. Le nozze con Camilla, accettata ufficialmente dalla regina, hanno lentamente placato le acque. Proprio Elisabetta, in uno storico comunicato stampa, il 5 giugno scorso, allo scoccare dei suoi 70 anni di regno, aveva eliminato ogni dubbio, indicando Carlo come futuro re e sua moglie Camilla, regina consorte. Carlo III d'Inghilterra è anche un accanito ambientalista. Ha optato per l'agricoltura biologica nella sua tenuta Highgrove e nel 1992 ha lanciato la sua azienda Dukey Originals, che produce marmellate, biscotti e altri prodotti biologici.